amici di livegp.it buonasera e bentrovati per la puntata numero 305 di circus il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo dei motori come sempre marco pervitere in vostra compagnia per parta per parlare per affrontare insieme a voi una puntata nel corso della quale effettivamente finalmente parleremo di mondiale di formula 1 che si appresta a partire dopo questa lunga sosta inaspettata improvvisa e sicuramente non voluta legata alla pandemia da covid 19 che naturalmente porterà questo mondiale di formula 1 a scattare in maniera insolita tipica dai primi di luglio ma finalmente ci siamo perché i motori sono pronti per riaccendersi e parleremo anche delle categorie di supporto le categorie propedeutiche come formula 2 e formula 3 che si preparano a scattare anch'esse in quel di spilberga ma non sarò da solo questa sera perché in mia compagnia ci saranno due membri molto valorosi dello staff di livegp.it come luca pellegrini che vado subito a salutare ciao luca ciao marco ciao luca buonasera a tutti e naturalmente per quanto riguarda l'altro membro valoroso non potevo che coinvolgere il nostro luca colombo ciao luca ciao marco ciao luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori quindi questa sera vi devo chiamare per cognome perché altrimenti rischiamo di confonderci ma insomma un sistema lo troveremo di certo saranno con noi tra poco per parlare della di quello che sarà questo mondiale di formula 1 facendo una preview a 360 gradi sul weekend di spilberg l'esperto di tecnica paolo filisetti e marcello pugliesi come ben sappiamo il commentatore di sky per quanto riguarda le categorie formula 2 e formula 3 in attesa naturalmente di avere in collegamento con noi i nostri ospiti vado subito a ricordare quelle che sono le coordinate per poterci seguire in diretta sulla nostra pagina facebook di livegp.it anzi do un saluto a tutti voi un bentrovati iscriveteci per esprimere i vostri commenti le vostre considerazioni nel corso della diretta siamo ovviamente anche sul canale youtube di livegp.it e poi ovviamente in diretta anche sulla nostra web radio radio livegp e mi raccomando perché da questo weekend con il mondiale di formula 1 scatterà anche il nostro appuntamento che ormai si rinnova di anno in anno con il commento live di tutti gli appuntamenti della categoria regina e saremo ovviamente in diretta a partire da sabato con le qualifiche delle gran primo d'austria e poi domenica alle ore 15 inizierà il nostro collegamento per raccontarvi in diretta video anche questa volta quindi grande novità per quanto riguarda radio livegp saremo dunque in diretta anche video per potervi raccontare anche con l'ausilio delle nostre grafiche tutto il gran premio d'austria per coloro che non avessero la possibilità ovviamente di seguirlo attraverso la televisione ma iniziamo a entrare subito nel vivo perché questa sera finalmente dopo una lunga pausa luca colombo si parla di formula 1 e allora finalmente ci siamo i motori stanno per riaccendersi io vorrei sentire da voi ma anche da chi ci sta seguendo da casa in questo momento quali sono le emozioni le sensazioni anche per certi versi atipiche del fatto di trovarsi in piena estate e avere finalmente la formula 1 pronta in alzare di partenza luca colombo beh finalmente l'hai detto tu se mi parte io personalmente insomma da quando ho iniziato questo problema con il covid 19 è sempre stata una cosa molto è stato molto difficile perché abbiamo visto tutti come sono andate le cose in australia cosa è successo dopo e come siamo arrivati qua personalmente io pensavo che non saremmo neanche mai arrivati ad una ad un momento simile adesso praticamente a una settimana dal via senza avere che ne so qualcosa qualche rotellina che gira qui dietro che dice ma ci potrebbero essere problemi come del resto era successo in australia quindi insomma c'è molta voglia di vedere cosa succederà in pista e c'è molta voglia di capire quali saranno le forze in campo e soprattutto come si svilupperà questo mondiale perché finora abbiamo soltanto otto gare in calendario se non mi sbaglio quindi l'altra metà del campionato o le altre gare del campionato devono ancora essere decise quindi sarà una cosa doppiamente atipica e luca pellegrini vorrei sentire anche da te insomma come ti apresti vivere questo inizio della stagione perché la formula 1 effettivamente poi apre un po' quella che sarà un'estate caldissima parafrasando max pezzali ma un'estate caldissima nel senso dei motori che ovviamente vedranno i grandi campionati internazionali non soltanto quindi a livello europeo partire proprio da questo weekend sì esatto finalmente si riparte finalmente si smette di parlare per niente aggiungerei quindi finalmente la pista darà il suo verdetto e avremo le prime vere risposte come ha detto luca finalmente qualcuno magari non non pensava neanche che si riuscisse a correre io dico che sono contento che già da un po' finalmente alcune categorie hanno cominciato a correre e come hanno ce l'hanno fatta loro era doveroso che anche la massima formula ricominciasse più presto il calendario otto gare ci sono a breve avremo anche le altre di toscana anche che quasi ci sarà l'ufficialità a breve quindi due gran premi in italia un fatto anche questo strano un fatto atipico un fatto che torna dopo diversi anni e finalmente potremo vedere le macchine in pista volevo solo ricordare a marco che oltre che a spilberg per le ruote coperte ci sarà anche la posce che finalmente inizia anche la stagione dopo mesi di stop e di assenza assolutamente sì è fatto bene a ricordarlo luca da artefice e diciamo così esperto di ruote coperte per quanto riguarda la nostra redazione ma ovviamente gli occhi del mondo sportivo non solo saranno concentrati saranno concentrati sulla e focalizzati sulla gara di formula 1 allora entriamo più nel vivo e che cosa dobbiamo attenderci dopo questo lunghissimo periodo di stop perché luca colombo sono passati ormai praticamente quattro mesi dai testi invernali di barcellona avevamo visto poco da per quanto riguarda i valori in campo forse a far parlare più di qualsiasi altra cosa in quella circostanza era stato il famoso das della mercedes ma adesso vedremo giusto visto che parliamo di mercedes di una mercedes che si presenterà in una veste in una livrea totalmente rinnovata per sposare la causa portata avanti in primis da Lewis Hamilton e poi anche dalla formula 1 con queste iniziative recenti volte a promulgare i valori dell'antirazzismo sì c'è tanta carne al fuoco perché come come hai detto te bisogna vedere uno i valori in campo e due tutte tutte queste queste notifiche che stanno arrivando di queste diciamo novità che verranno introdotte sia a livello di livrea di cui vabbè vediamo di parlare più tardi sia a livello di tutti tutte queste iniziative che vengono che vengono promosse per valori diciamo meno sportivi più civili comunque dal punto di vista delle prestazioni io mi aspetto sempre che ci sia una una divisione abbastanza netta tra le prime tre scuderie quindi mercedes red bull e ferrari secondo me in quest'ordine con mercedes red bull più vicine rispetto a ferrari alla ferrari e poi c'è tutto il gruppo di centro che stando a quanto hanno detto sia renault che mclaren anche quest'anno a centro gruppo le differenze saranno sempre minime secondo me quello che farà la differenza nel centro gruppo potrebbe anche essere la gestione diciamo a livello finanziario quanto questo stop abbia avuto un impatto sulle sulle varie scuderie perché sappiamo benissimo che scuderie blasonate anche come la mclaren hanno avuto dei problemi a livello finanziario quindi magari questo potrebbe potrebbe avere un suo peso sullo svolgimento di un campionato che essendo molto ridotto rispetto alle solite 20 gare potrebbe anche portare ad una gestione di gare dei piloti diversa rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni nel senso che non ci saranno poi tanti appuntamenti per dire ma ho fatto un errore nei prossimi appuntamenti potrò riprendere dei punti potrebbe essere un qualcosa che buona la prima e via quindi ci sono tutto questo ventaglio di opzioni che andremo che andremo a scoprire e come hai detto prima ci sono molte iniziative sempre orientate verso i valori civili abbiamo visto oggi la presentazione della livea total black della mercedes e in più c'è quest'altra iniziativa da parte della fiat di cui adesso non mi ricordo il nome ma che comunque sull'alo o sui dettagli della vettura verrà riportata questa la dicitura di questa iniziativa e da una parte io spero che possa servire a qualcosa nel senso possa portare effettivamente ad un miglioramento poi vedremo perché sempre dietro l'angolo il fatto che siano soltanto parole 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 o iniziative tanto di mettere uno sticker da qualche parte e poi la cosa rimane morta lì Marco volevo dire una cosa sul discorso che ha detto di discorso che ha fatto Luca sul calendario giusto quello che dici però secondo me permettetemi un attimo di interrompervi perché comunque dobbiamo dare una notizia abbastanza importante nel senso che è stato da poco emanato un nuovo bollettino medico sulle condizioni di Alex Zenardi che come ben sapete è ricoverato ormai da oltre una settimana sono circa dieci giorni da quando è accaduto quel drammatico incidente sulla handbike del campione bolognese che ricordiamo al quale lo ricordiamo abbiamo dedicato anche la precedente puntata di Circus allora c'è stato un nuovo intervento chirurgico che è stato effettuato appunto per Alex e vado a riportare le notizie che ci stanno arrivando in questo momento l'intervento è durato circa due ore e mezza Alex Zenardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato e intubato le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardiorespiratorio e metabolico gravi dal punto di vista neurologico e la prognosi rimane riservata a questo punto come ha sottolineato anche il direttore sanitario del Policlinico di Siena che ha appunto rilasciato queste dichiarazioni è un intervento che rappresenta uno step già in precedenza ipotizzato dall'equipe medica per cui i medici che hanno in cura Alex adesso valuteranno giorno per giorno l'evolversi della situazione e in accordo con la famiglia il prossimo bollettino medico sarà diramato sarà diramato tra circa 24 ore quindi secondo intervento chirurgico al quale di neurochirurgia lo vogliamo sottolineare al quale è stato sottoposto Alex Zanardi e quindi speriamo naturalmente che questo possa essere uno step importante anche se le condizioni rimangono naturalmente gravi per il pilota bolognese in vista di un pronto recupero mi sembrava opportuno e doveroso dover interrompere la discussione anche per dare conto a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in tempo reale sulle condizioni, sull'evolversi della situazione di Alex Zanardi Luca, proseguiamo pure con il tuo intervento Luca Pellegrini, prego Dicevo che aspetterei a dire un calendario ridotto visto che comunque le idee non sono chiare perché abbiamo visto certe categorie che hanno detto noi il campionato lo svolgiamo tutto noi recuperiamo tutte le gare effettivamente le gare stanno recuperando tutte secondo me non si arriverà a 20 ma un 18 faranno in modo per svolgere perché ci sono troppi interessi che circolano in giro al mondiale di pomola 1 e se tu conti due gare in barei una sul semi ovale una sulla pista normale potresti farne due gare come ha proposto in Russia quindi sono già quattro aggiungi il Gran Premio di Toscana a cinque aggiungi due gare a Budabi la sparo lì, sono già sette siamo già arrivati oltre quindici quindi le forze in campo cambiano e la gestione di un mondiale cambia certo avere un calendario prima che si iniziasse il mondiale sarebbe meglio per tutti secondo me purtroppo quanto pare non si riesce spero che si riesca prima della bandiera verde del Gran Premio di Austria perlomeno avere un'idea perché anche la gestione delle componenti quando cambia un componente su che pista cambia un componente sappiamo che è un'analisi da fare perché ne va dei punti alla fine dell'anno chi ha più punti vince il campionato e quindi fa la differenza secondo me esatto e poi sarà naturalmente anche interessante ed è questo uno dei temi scottanti insomma di questo campionato un po' atipico Luca Colombo il discorso legato alle tante situazioni che potrebbero venirsi a creare nel corso della stagione da separati in casa ovvero il fatto Fettel e Ferrari in primo luogo ma poi anche numerose altre situazioni come Sainz e la McLaren Ricciardo e la Renault Bottas e la Mercedes molto probabile lo scopriremo a stagione in corso insomma ci sono tante situazioni molto molto interessanti che dovranno essere analizzate di gara in gara Sì diciamo che quella più più visibile da parte di tutti è quella in casa Ferrari con Vettel separato separato in casa anche perché solitamente si sa che la Ferrari ha comunque uno storico diciamo in cui quando ci sono questi attriti ci sono sempre la gestione non è che sia sempre ottimale vabbè gli uomini cambiano le cose possono le cose possono essere migliorate quindi vedremo vedremo come sarà in casa in casa Ferrari dalle altre parti diciamo che la McLaren ha già detto che diciamo nel suo impiego di quest'anno di Sainz non ci sarà molta differenza rispetto a quanto fatto l'anno scorso anche se si sa che Sainz alla fine dell'anno andrà verso la Ferrari vedremo invece per quanto riguarda Ricciardo vedremo perché lì c'è un grosso punto di domanda su cosa vuole fare la Renault da grande non è ancora molto chiara la loro situazione invece per Bottas vedremo anche lì la situazione in AMG Mercedes come andrà definendosi anche perché ricordiamo che Hamilton a quanto pare non ha ancora rinnovato il contratto lì non è che ci sia da dire glielo rinnovano o non glielo rinnovano probabilmente glielo rinnoveranno però la situazione diciamo deve essere definita prima a livello primo pirota e poi vedremo col secondo pirota cosa fare anche perché Russell bussa alla porta da AMG Mercedes e poi chissà mai che quest'idea pazza di avere la coppia Hamilton Vettel l'anno prossimo potrebbe anche prendere forma chi lo sa sì perché poi c'è stata questa fase esplosiva del mercato piloti alla quale abbiamo assistito a un certo punto con un'impennata davvero incredibile i fuochi d'artificio insomma nel giro di poche ore il passaggio di Richard della McLaren quello di Sainz alla Ferrari rimane in bilico naturalmente la situazione di Sebastian Vettel e quella di Fernando Alonso che è sempre l'ineguato pronto magari a valutare un possibile ritorno rientro in Formula 1 intanto naturalmente vi stiamo tenendo aggiornati su quelle che sono le ultime notizie provenienti dal Policlinico di Siene in merito alle condizioni di Alex Zenardi è arrivata poco fa la notizia che il campione bolognese è stato sottoposto a un secondo intervento di neurochirurgia resosi necessario in seguito a un'attacca di controllo effettuata dal personale sanitario dell'ospedale e come sottolineato dall'equipe medica si trattava di uno step ipotizzato evidentemente per intervenire laddove non si era potuto intervenire nel corso del primo intervento quello immediatamente successivo all'incidente naturalmente a questo punto verranno emanati nuovi bollettini medici quotidianamente visto che la decisione della famiglia nel corso delle precedenti giornate era stata appunto quella di sospendere la comunicazione dei bollettini sino a novità significative bene oggi c'è stata questa novità e staremo a vedere quello che sarà naturalmente il quadro clinico di Alex incrociamo tutti le dita affinché il grande campione bolognese possa riprendersi al più presto Luca Pellegrini insomma vogliamo fare anche qualche piccolo pronostico per quanto riguarda questo primo appuntamento del mondiale anche perché storicamente almeno per quanto riguarda le ultime edizioni il Red Bull Ring ha visto trionfare la valanga orange potremmo così definirla anche se quest'anno Max Verstappen non potrà godere della spinta del pubblico è già perso la sua gara di casa e lì è altro che valanga qui Spielberg genera tanta anche l'anno scorso però comunque penso che Verstappen abbia buone chance di confermare la sua supremazia in una pista che comunque gradisce e che anche Red Bull negli ultimi anni ha fatto vedere che è pista di casa alla fine di Red Bull quindi che Red Bull possa fare bene io però non darei mai per vinta la Mercedes perché penso che quello che hanno fatto vedere ai test d'inizio anno il tanto parlato il tanto discorso DAS sia solo una delle tanti armi in Arsenal e Mercedes invece per quanto riguarda Ferrari io ho paura che sia un anno di lì col terzo quarto posto secondo magari ma per il primo non vedo speranze e poi come ha già accenato Luca Colombo se la rivalità interna dovesse prendere sopra il vento non vedo nella figura di Binotto una persona capace di prendere una posizione chiara e comunque non vedo un Petel in grado di tirarsi indietro perché il peso che ha in quella squadra forse è ancora troppo forte rispetto all'esigenza della squadra che punta su un pilota che vorrebbe puntare su un pilota ma che ha le mani legate lo farà l'anno prossimo sì però abbiamo ancora un anno da disputare abbiamo ancora x gare da correre tornando al discorso di prima e un anno che la Ferrari non può permettersi di sbagliare sicuramente poi nel bene o nel male l'anno prossimo le regole resteranno uguali con forze in campo saranno magari ancora quelle e quindi quest'anno dovrebbe essere un anno di rivincita anche alla luce dei risultati dell'anno scorso quindi mi chiedi i pronosti col podio Marco? No lo facciamo alla fine perché nel frattempo volevo approfittare per introdurre il nostro primo ospite di questa sera che ho molto il piacere di avere qui con noi un amico di LiveGP.it si tratta di Paolo Filisetti ciao Paolo benvenuto buonasera a tutti voi ciao Marco grazie per essere qui con noi naturalmente era doveroso da parte nostra coinvolgerti in questa preview che stiamo facendo finalmente del mondiale di Formula 1 2020 che si appresta a scattare e allora io da te Paolo volevo avere qualche le tue sensazioni alla vigile dell'appuntamento del primo dei due appuntamenti in terra austriaca perché si è parlato ad esempio di una Ferrari che sostanzialmente sarà più o meno la stessa vettura che abbiamo visto nei test invernali di Barcellona ecco quali sono le tue sensazioni a quattro mesi praticamente di distanza dall'ultimo dall'ultima apparizione in pista delle vetture guarda onestamente si è detto veramente di tutto nel corso di questi quattro mesi e come tu giustamente facevi Cenno la possibilità di sviluppare le macchine è stata abbastanza ridotta non tanto per incapacità dei singoli team quanto proprio perché le fabbriche sono rimaste a lungo chiuse e quindi anche lavorando a distanza e smart working chiaramente non si riesce ad eseguire tutto il lavoro men che meno la produzione effettiva dei pezzi infatti quando poi le fabbriche sono state aperte sostanzialmente tutte le squadre Ferrari tra tutte hanno lavorato su tre turni proprio per riuscire a produrre almeno anche un numero adeguato di parti perché questo sarà uno dei problemi proprio per queste otto gare in dieci settimane di conseguenza veramente un tour de force globale ti dico a livello di novità per quanto riguarda la Ferrari sicuramente ci sarà la power unit secondo step insomma l'evoluzione di quella che abbiamo visto a Barcellona e auspichiamo che possa essere qualche cosa che fornisca diciamo adesso non è tanto parlare di un discorso di 15-20 cavalli che effettivamente sono sempre cifre irrisorie che servono più per scrivere un titolo su un giornale piuttosto che su un sito piuttosto che in realtà per servire realmente a qualche cosa quello che mi auguro è appunto l'incremento dell'efficienza di questa power unit perché avevamo visto comunque a Barcellona indipendentemente dai problemi diciamo di carattere telaistico aerodinamico sicuramente la power unit sembrava aver risentito di quello che era l'effetto dei controlli della federazione della scorsa stagione e di quello che poi era emerso che era concluso con l'accordo segreto particolarmente segreto tra Ferrari e il punto federazione poi ti dico le novità maggiori le vedremo penso a Silverstone ma questo obiettivamente è una situazione comune a tutte le squadre partiamo anche dal presupposto che la maggior parte delle squadre 7 su 10 ha sede in Inghilterra e loro addirittura hanno potuto aprire quasi due settimane 10 giorni due settimane dopo quelle che erano fuori dall'Inghilterra e quindi mi riferisco a Ferrari Alfa Tauri e Sauber Alfa Romeo quindi diciamo un gran premio che potrebbe in un certo senso ricalcare i valori visti a Barcellona anche se poi bisogna essere altrettanto onesti nel dire che cosa effettivamente abbiamo visto a Barcellona perché a Barcellona abbiamo visto sì una Mercedes che partiva da una base che era quella poi vincente dell'anno precedente nello stesso tempo è stata poco convincente per quanto riguarda la Power Unit perché comunque non considererei di secondaria importanza i cinque problemi cinque cedimenti che ci sono stati tra le Power Unit ufficiali e quelle clienti e di conseguenza quest'anno con un calendario che al momento è ridotto ma poi tra l'altro serratissimo il discorso affidabilità diventa anche un elemento di rimente anche per le prestazioni perché è ovvio che tu quando vuoi mantenere anche una certa affidabilità alcune volte la modalità più estrema della Power Unit mi riferisco non tanto per la qualifica ma comunque una modalità diciamo forte se così lo vogliamo definire in maniera semplice anche per la gara viene utilizzata ci ricordiamo ad esempio l'anno scorso ma addirittura due anni fa proprio al Gran Premio d'Austria sia il doppio cedimento precedente sia il fatto che l'anno scorso sia Bottas sia Hamilton dovessero usare la manovra Lift & Coast per circa 400 metri di tutto il giro appunto per cercare da un lato consumi ma dall'altro soprattutto di mantenere sotto controllo le temperature non dimentichiamoci che scusate il Red Bull Ring è un circuito in altura relativa 700 metri impone una minima rarefazione che incide sia sul rendimento dei propulsori sia anche sullo scambio termico ovviamente senti Paolo hai accennato alla questione calendario ecco io volevo chiederti una curiosità visto che ormai sembra prossimo l'ufficialità della seconda parte del calendario delle restanti gare si parla naturalmente del Mugello il Gran Premio di Toscana che sarebbe ormai prossimo verso l'inserimento in questo nuovo calendario si parla anche di Portimao un circuito almeno per quanto riguarda la Formula 1 moderna del tutto sconosciuto perché non ricordo a memoria di aver visto sessioni di test in epoca recente a Portimao mentre ricordiamo che l'ultima apparizione delle Formula 1 a Mugello per quanto riguarda i test collettivi è datata a 2012 se la memoria non mi inganna ecco secondo te al Mugello al di là della bellezza del circuito la Ferrari potrebbe avere qualche vantaggio anche magari derivante dal fatto di aver accumulato qualche dato con la monoposto vecchia con cui ha effettuato i test e rispetto agli altri team che comunque si troveranno in un certo qual senso privi di riferimenti su quella tipologia di circuito ma guarda se vogliamo dire eventualmente qualche vantaggio ma proprio residuale oserei dire possono averlo i piloti che quantomeno hanno potuto provare vedere quali sono i punti di frenata però oggettivamente parliamo di monoposto di due anni e per di più di pneumatici che sono appunto specifici per i test che non hanno nulla a che fare obiettivamente con quelli che poi saranno utilizzati nel corso del campionato quindi non vedo grossi grossi problemi se faccio anche riferimento a quanto aveva detto di recente Helmut Mark lamentandosi del fatto che la Renault avesse disputato le prove il Filming Day al Red Bull Ring beh mi sembra più una una butade che obiettivamente altro ecco però sai il discorso qui è non tanto un discorso di Filming Day ma cercare di capire effettivamente quanti quali possono essere i riferimenti io penso che i riferimenti siano abbastanza ridotti al minimo Paolo ti chiedo un'ultima cosa visto che naturalmente tu sei un inviato che segue abitualmente tutte le tappe del modello di Formula 1 scusami in teoria siamo inviati adesso con con questa situazione appunto è lì che volevo arrivare Paolo e quest'anno invece siamo un po' tutti costretti a rimanere a casa perché anche noi non saremo a Red Bull Ring ma cercheremo di raccontare il gran premio ai nostri elettori da casa ecco da questo punto di vista insomma misure davvero molto restrittive per quanto riguarda anche l'accesso ai media giornalisti si è parlato di pubblico di porte chiuse ma vogliamo fare un po' il punto della situazione anche su quello che è l'aspetto legato ai media la presenza della stampa e di come questo gran premio effettivamente verrà raccontato perché solo una sparuta minoranza dei media normalmente accreditati saranno presenti proprio in Austria e nelle etappe successive beh allora diciamo che questi protocolli di sanitari in questo momento sono fissati quantomeno per le prime tre gare con l'ipotesi ovviamente che la FIA li riveda man mano che si svolge il campionato e di conseguenza con una sempre maggiore apertura ai media mentre restano per il momento quantomeno tutte le gare che si disputeranno in Europa a porte chiuse chiaramente dico le gare che si disputeranno in Europa perché poi quelle fuori dall'Europa che ancora devono essere definite non è possibile mantenerle sotto una bolla come invece è più facile realizzare appunto correndo su tracciati di stati tra di loro o al di là più confinati ma soprattutto c'è un fatto anche specifico i viaggi che vengono effettuati via aereo da parte dei team ma non solo da parte dei team anche dei giornalisti che sono un numero sparuto 10 per l'Ungheria ho saputo che si aumenterà qualcosina di più diventeranno 15 o quasi 20 comunque viaggiano embedded cioè come gli inviati di guerra a seguito praticamente della carovana della Formula 1 chiaramente a secondo poi della nazionalità degli inviati stessi quindi saranno sui charter che poi portano il personale Formula 1 questo perché così si annulla si azzera totalmente il contatto esterno ergo ci sono delle norme molto prescrittive per gli spostamenti dagli hotel al circuito circuito hotel quindi non c'è assolutamente libertà e quindi immaginate addirittura che nelle giornate tra un Gran Premio e l'altro quindi pensiamo dopo la prossima domenica prima del Gran Premio successivo devi stare in albergo non è che puoi andare a farti un giro quattro passi nel paese vicino quindi una situazione veramente da ritiro calcistico per trovare un paragone ma direi anche qualcosa di peggio quasi da stare in caserma detto ciò come la seguiranno beh c'è da dire ulteriori restrizioni il fatto che chi andrà e diciamo sono stati scelti oserei quasi dire random ma neanche tanto perché c'è stato un privilegio delle agenzie ovviamente di stampa internazionale pochi giornalisti di testate e ancor meno freelance comunque diciamo è comprensibile quantomeno per la prova di queste gare iniziali chiaramente non per il proseguo i limiti sono che i giornalisti che saranno presenti avranno l'unico diritto di stare in sala stampa ergo non c'è possibilità di entrare nel pardo possono muovere nessuna intervista naturalmente neanche meno avere rapporti diretti quindi interviste dirette con i protagonisti di conseguenza obiettivamente non vedo una grossa distinzione tra l'essere sul luogo a meno che ovviamente certo il primo evento può essere una cosa interessante giornalisticamente parlando perché descrivi appunto questa bolla e la descrivi effettivamente standoci all'interno ecco ma detto ciò sotto il profilo della spiegazione dell'evento sportivo e di tutti i dettagli è identico come non esserci tra l'altro tutti i detentori di pass permanente come è anche sottoscritto oggi hanno ricevuto un comunicato personale da parte della federazione ci forniranno insomma degli strumenti con delle chiavi di accesso appunto per accedere alle conferenze stampa e poter noi stessi fare delle concordare appunto delle domande in conferenza stampa oltre ad accedere a tutti i file diciamo di dati della F1 TV a titolo ovviamente gratuito e disponibile solamente appunto le testate accreditate con pass permanente questo è un minimo è un qualche cosa in più giusto per consentire a chi era abituato e solleva appunto commentare direttamente dal posto e avere quel qualcosa in più rispetto insomma al fatto di non esserci bene Paolo vedremo un po' come sarà anche questo primo esperimento di Gran Premio per tanti di noi raccontato da casa sappiamo che anche la regia dell'evento sarà realizzata in remoto quindi insomma ci sono tante novità e vedremo un po' come sarà questo nuovo modo di raccontare anche la Formula 1 grazie a Paolo Filisetti per essere stato in nostra compagnia buona serata a tutti ciao Paolo grazie e allora abbiamo avuto con noi Paolo Filisetti nel corso di questa prima parte della puntata numero 305 di Circus ma io passo subito al secondo ospite di questa sera perché a Spielberg non ci sarà soltanto la Formula 1 bensì anche le categorie propedeutiche che finalmente potranno partire con il loro campionato 2020 allora io do il saluto il bentornato a Circus a Marcello Puglisi ciao Marcello come stai? ciao Marco tutto bene un saluto a te ovviamente a tutti quelli che ci seguono e agli altri collegati questa sera quindi ai due Luca ecco Marcello ti vediamo dove sei? in una cella frigorifera no? hai visto il caldo di questi giorni sarebbe sarebbe indicabile ma no infatti ho detto ti invidio se fossi in una zona così fresca in effetti no fa parecchio caldo in questi giorni no cerchiamo di essere seri naturalmente Marcello anche perché io non so come si stiene nella cabina di commento di Sky quali siano le temperature al fianco del buon Lucio Rizzica però sicuramente sarete pronti per raccontarci un weekend inaugurale di Formula 2 e Formula 3 che si pronuncia comunque infocato in quelle di Spielberg vogliamo partire dalla Formula 2 facendo un po' un quadro veloce di quelli che sono i principali favoriti gli outsider alla vigilia della stagione allora per quanto riguarda la situazione cabina di commento si sta alla grande perché ovviamente anche Sky ha adottato le dovute restrizioni quindi non sarò più in cabina con Lucio nel senso voi ascolterete un commento che sarà condiviso col buon Lucio però di patto saremo in due cabine separate proprio perché gli spazi appunto non consentono di mantenere le adeguate distanze quindi sinceramente a me va anche meglio perché così sto più largo e quindi mi godo la Formula 2 e la Formula 3 anche da una posizione migliore potrei anche rubare come già fatto lo stanzino a Bobby quindi insomma ne ho tratto quasi beneficio da questa situazione per quanto riguarda invece Formula 2 una carrellata un po' rapida su quelli che possono essere i veri protagonisti premesso che in realtà poi essendoci stati praticamente test zero non abbiamo poi grandissime situazioni di riscontro dei banchi di riscontro se non un po' quelli che erano stati anche i test dell'anno scorso abbiamo sicuramente un team al Grand Prix che schiera due rucchi d'assalto perché arrivano entrambi dalla Formula 3 Armstrong forse uno dei grandi delusi della Formula 3 così come l'Hungard che era stato il pilota che aveva vinto la gara iniziale poi c'era stato quello scambio di posizioni Barcellona abbastanza infelice ricordiamo uno all'interno del programma giovane da Renault a Lundgaard Armstrong invece ancora all'interno del programma giovane a Ferrari e quindi sicuramente da tenere d'occhio e credo che possano essere sicuramente loro due grandi protagonisti anche perché c'è un team al Grand Prix che storicamente insomma è stato sempre uno dei team protagonisti del campionato poi direi anche il team Carlin che con l'innesto di Daruval anche lui e Rucchi della Formula 3 potrebbe presentare delle sorprese di Daruval tra l'altro che è l'entrato all'interno del programma giovane e Dara quindi anche lui tenuto d'occhio dai grandi nomi della Formula 1 e poi ovviamente Tim Prema che deve riscattarsi anche da una stagione del 2019 non così brillante soprattutto con un Mick Schumacher su cui insomma c'erano tantissime attese anche già dall'anno scorso poi leggermente disattese scusate la ripetizione però insomma non è riuscito a ripetersi sugli standard che ci aveva abituato nel FIA Formula 3 soprattutto nella seconda fase della stagione e altro nome caldo altro rookie caldo direi assolutamente Schwarzman perché è il vincitore della Formula 3 e infatti io proprio qui volevo interrogarti perché secondo te Mick Schumacher potrà essere un po' spinto dall'arrivo in squadra di Robert Schwarzman considerando che lo scorso anno aveva come compagno di squadra Sean Gelley che è sicuramente un pilota molto esperto ma non è certo uno dei più veloci dell'otto ecco il fatto di avere un pilota molto molto promettente secondo me come Robert Schwarzman potrà finalmente farci vedere le vere doti di Mick Schumacher quelle che almeno aveva mostrato nella seconda parte del campionato di Formula 3 e anche perché per lui questa è una stagione dove non dico sia l'ultima prova ma effettivamente dovrà avendo anche una stagione di esperienze alle spalle dovrà dimostrare tutto il proprio valore ecco occhi puntati dunque molto sul team prema potrebbe non essere ovviamente l'ultima prova ma ha tutto il sapore di ultima prova nel senso che sappiamo tutti ovviamente come storicamente all'interno della Formula 2 chi vince entro le prime due stagioni poi ha la possibilità di andare in Formula 1 ovvio che Mick Schumacher ha tanti altri non so come dire interessi che gravitano attorno a lui proprio per un cognome importante quindi anche se forse non dovesse fare una stagione mostro quest'anno potrebbe essere nuovamente riciclato nella prossima stagione per un'altra annata in Formula 2 o chissà quali altre categorie per poi un eventuale debutto in Formula 1 però ecco l'arrivo di un pilota davvero forte riconosciuto da tutti come uno dei più grandi talenti di categorie propedeutiche come Schwarzman può essere un armato più taglio per lui nel senso che dipende poi ovviamente come andrà a vivere la stagione i piloti possono vivere compagni di squadra bene o male possono vivere come stimolo per andare a fare di più per anche lavorare a casa in modo più insomma assiduo e più professionale oppure può essere schiacciato da questa presenza perché Schwarzman sappiamo che è un pilota davvero veloce fin da subito l'ha dimostrato in Formula 3 si adatta molto rapidamente anche alle nuove categorie quindi potrebbe andare a dar fastidio a Mick Schumacher quindi questo potrebbe essere sicuramente un elemento che va a infastidire quello che è insomma anche l'attitudine mentale di Mick Schumacher e in più di fatto sono compagni di squadra sono anche compagni all'interno del FDA quindi questo può assolutamente creare un dualismo spero che la famiglia Rosin ma anche la Ferrari sappia gestirlo bene potrebbe portare anche a situazioni spiacevoli perché sono compagni di squadra sì è vero che è il tuo aiuto in caso di magari di setup però insomma è il primo che devi battere quindi non vorrei vedere qualche partenza e due andarsi a scornare e poi vanificare magari il lavoro di tutto il weekend tra l'altro Marcello per mettermi sì sì appunto volevo far notare che non è la prima volta che in casa Prema ci sono due piloti che fanno parte della Ferrari Driver Academy perché una medesima situazione si venne a creare quando ci furono Leclerc e Antonio Fuoco poi i problemi teoricamente di rivalità tra i due vennero meno nel momento in cui Leclerc sin da subito dimostrò di avere nettamente un altro passo però insomma forse in casa Prema sono già abituati a questo tipo di situazioni no? Sì direi che come hai detto tu è stata poi gestita facilmente perché tra i due c'era un po' una differenza di prestazioni importante e quindi purtroppo per Antonio non è riuscito ad essere lì con Leclerc a giocarsi il campionato e quindi alla fine è stato più facile per prima gestire i due piloti lo si è visto anche in Formula 1 per dire con Rosberg e Hamilton in quanto fosse difficile gestire i due galli nello stesso pollaio quindi potrebbe essere questa la situazione che deve affrontare prima quest'anno ciò non toglie che se uno dei due dovesse essere estremamente più forte dell'altro sarebbe a questo punto più facile per il team ma anche per la Ferrari andare a insomma accullare forse di più quello più veloce e lasciare che abbia il suo naturale corso nella stagione scusa Marco posso fare due considerazioni con Marcello prego ciao Marcello intanto bentornato due cose secondo me più che Schumacher un vantaggio ad avere Schwarzman come compagno per me è la cosa peggiore che poteva capitare a lui nel senso che sappiamo l'interesse che c'è per Schumacher nonostante la scorsa stagione cosa è successo e sappiamo anche che spesso nelle categorie minori una delle due macchine va forte e l'altra non è all'altezza dell'altra non vorrei che Schwarzman venisse svantaggiato da questo da questo conquilino nel team Prema cosa ne pensi riguardo a questo allora io non credo perché ho piena fiducia in quelli che sono i mezzi anche io di Prema però considerando l'elemento se si parlava di qualcun altro ti davo ragione però parlando di Schumacher l'interesse che gira intorno a quella persona si farà di tutto per metterlo lì davanti non lo so perché alla fine è vero che Mick Schumacher è un cognome insomma importante e c'è tantissimo interesse intorno a lui però non dimentichiamoci che comunque la Russia ha bisogno di un pilota in Formula 1 e Schwarzman è uno di quei piloti che potrebbe arrivare in Formula 1 ora non vedo Markloff così pronto per la Formula 1 più che pronto Markloff ha il livello comunque di competitività di Markloff sicuramente adeguato però insomma forse Schwarzman ha qualcosa in più c'è la Ferrari dietro c'è anche degli sponsor importanti dietro a lui SMP che spinge per Schwarzman e quindi insomma una nazione come la Russia ricordiamoci che comunque c'è anche tanta economia dietro a Formula 1 quindi la Formula 1 sta cercando disperatamente un pilota cinese che è difficilissimo da trovare forse l'ha trovato in Guanyujo vedremo e idem si può dire per la Russia è vero che la situazione internazionale è ancora da capire capire quali saranno gli equilibri economici ma comunque se la Formula 1 questo è ancora da vedere manterrà per i 2020 una gara in Russia sarà comunque importante poi per gli anni a seguire avere un pilota russo perché l'interesse di una nazione davvero forte economicamente può portare tantissimi sponsor alla Formula 1 e portare tanto più interesse quindi io credo che sì sicuramente fa più eco mediatico la vittoria di Mick Schumacher però al contempo c'è comunque tanta spinta per Schwarzman quindi comunque confidando che il team poi non andrà a rompere gli equilibri tra i due piloti è vero che c'è sempre una macchina che va di più però credo che poi storicamente è stato dimostrato per i piloti che salivano in Formula 1 che la macchina che andava di più alla fine non era solo la macchina ma le Clerc Hamilton e via dicendo esatto ne sono la dimostrazione quindi c'è sempre un'attenzione maggiore forse per il pilota che vince all'interno del team ma perché ovviamente poi quando a un certo punto della stagione c'è una disparità troppo evidente poi è ovvio che anche lo stesso meccanico che sa che può giocarsi la gara quando farà il pit stop sarà molto più attento rispetto al meccanico che al pilota che sta giocando non so la decima posizione ma è una cosa credo naturale per qualsiasi situazione quando hai tanta pressione addosso e anche tanta voglia di riuscire a esprimerti con un obiettivo con un risultato da parte di tutti gira tutto nel modo in cui le cose vadano nella direzione giusta invece un nome che tu non hai citato ma secondo me anche lui a caccia di una rivincita e di un cercare di andare avanti è un inglese Dan Tictum che comunque nel suo passato due gambe di Macam non inizia di togli nessuno perché lui li ha vinti meritandosi uno magari per fortuna l'altro lo dominò ha già avuto la sua esperienza in Formula 2 però ha sempre avuto un rigetto un carattere difficile anche esatto esatto anche un carattere difficile come lo vedi tu per la stagione considerando che comunque il team con cui corre non è un team ma è un team brutto Danz alla fine ha regalato anche campioni alla Formula 2 l'ultimo mi viene in mente Valzecchi però tu sicuramente sei più aggiornato di me ne abbiamo anche altri no no sicuramente il team Danz è uno dei team migliori insieme a Grand Prix insieme a Prema e forse Carlin univirtuosi anche ultimamente sta dimostrando comunque di essere un'ottima scuderia è una domanda difficile nel senso che è riconosciuto da tutti come Tic Tum sia un enorme talento però il carattere va a determinare poi quello che è l'espressione di questo talento nel corso non magari di una singola gara ma nel corso di tutto il campionato quindi se tu sei uno arrogante o anche sbruffone o comunque una testa calda non riesce a rimanere concentrato per tutta la stagione ed è facile arrivare all'errore o magari lasciarsi sopraffare da situazioni esterne quindi per questo pur essendo un fan da un certo punto di vista di Tic Tum perché poi anche un personaggio così piace perché va a aspettare quella che è poi un po' il trend degli ultimi anni dei piloti automi che non dicono mai quello che pensano ma uno che insomma va a dire qualcosa di nuovo piace però non penso che alla fine del campionato sicuramente avrò smentito perché i pronosti di solito ne prendo neanche uno ma non penso che possa giocarsi la stagione però scusa Marco scusa ancora una domanda a Marcello hai parlato di nazioni hai parlato di Germania Schumacher hai parlato di Russia io parlerei anche di Giappone perché guardando la loro esperienza avuta in Euroformula Open come Sato Marino e Tsunoda che comunque sono nel giro Red Bull anche loro potrebbero dire loro ok che il team non sono dei migliori però Tsunoda comunque corre con Carlin sì beh ovviamente c'è dietro il zampino della Honda perché sta cercando speratamente Honda di avere qualche giapponese di livello in Formula 1 che manca ormai da qualche anno c'è questa speranza che ha visto per un po' Matsushita essere spinto quest'anno Matsushita con team MP e poi appunto Tsunoda e Sato che però non è appoggiato direttamente da Honda non lo so non vedo nessuno di questi in grado di poter giocarsi il campionato magari tra i tre Tsunoda è quello che potrebbe fare l'exploit perché ormai insomma Matsushita ha dimostrato insomma quello che è il suo livello ottimo pilota ma con team MP non so quanto potrebbe poi comunque andare a concretizzare forse Tsunoda che l'anno scorso poi non è che abbia fatto grandissimi risultati però potrebbe comunque riuscire a trovare una particolare feeling con la Formula 2 di quest'anno ecco io cederei anche un piccolo spazio a Luca Colombo per magari fare una domanda a Marcello sul nostro portacolori su Luca Ghiotto che ne dice Luca visto che abbiamo parlato di tutti i piloti come favoriti però non dimentichiamoci del nostro Luca Ghiotto no infatti anche perché a dire il vero io ero ancora rimasto che lui era un po' fuori dal giro della Formula 2 invece poi è rientrato è rientrato quindi adesso non sono informatissimo su cosa possa fare su quali siano le potenzialità quest'anno quindi questa insomma la domanda così beh allora come hai detto giustamente tu inizialmente il main program di Ghiotto era quello di buttarsi nel mondo GT con Aston Martin con appunto l'appoggio ufficiale della casa inglese poi c'è stata questa proposta da parte di Hitech ma di fatto è di Mazepin perché è Mazepin che economicamente supporta il team e di fatto mette anche il budget per Ghiotto quindi Luca riesce a correre anche grazie a questa situazione quello che dovrà fare è sì andare a fare anche da scudiero forse in alcune situazioni a Mazepin poi se in campionato dovesse essere messo bene Mazepin non avere la possibilità di giocarsela Ghiotto credo che potrà anche fare vedere quello che è il suo valore da quello che so io poi non è detto che Luca faccia tutte le gare perché inizialmente l'accordo con Hitech era che nelle concomitanze con le gare del GT la precedenza ce l'avessero le gare GT poi in realtà il programma Ston Martin è stato messo leggermente in disparte quindi di fatto ora come ora la precedenza ce l'aveva la Formula 2 però il team inglese giustamente avendo già preso accordi con un altro pilota ora come ora darebbe la priorità all'altro pilota se poi in campionato invece Luca dovesse essere in lotta a quel punto le due gare che l'altro pilota dovrebbe fare sarebbero invece poi di Luca e Ghiotto quindi è una situazione un po' difficile quella per Ghiotto da questo punto di vista perché è cambiata appunto a causa della pandemia il team Hitech è un punto di domanda non sappiamo quanto effettivamente possa essere competitivo rispetto ad altri team sicuramente con più esperienza Luca avrà portato tutta la sua conoscenza della macchina e abbiamo anche delle novità sulla Formula 2 di quest'anno quindi ci sarà anche l'aspetto esperienza che potrebbe fare la differenza quindi credo che lui che tra l'altro è uno dei migliori interpreti delle gomme Pirelli possa davvero fare la differenza quindi non lo vedo come super favorito ma non per il pilota in sé che l'anno scorso ha dimostrato il valore ma più che altro perché il punto di domanda è il team non sappiamo quanto possa essere competitivo ci sono dei grandi investimenti alle spalle però insomma non sempre coincidono con poi effettiva velocità in pista ecco Marcello siamo in chiusura della nostra puntata ti chiedo ma in un minuto ce la fai a darci i tuoi favoriti del campionato di Formula 3 almeno chi vedi bene sulla carta in Formula 3 aspetta che do anche io una una rapida carrellata una ripassatina esatto allora io vedo bene Prema perché con piastri e vesti potrebbero davvero essere i due piloti da da tenere d'occhio però attenzione anche a Purcher che pur non avendo tantissima esperienza con il team al Grand Prix potrebbe far bene i test prestagionali non è stato rapidissimo però il curriculum parla per lui e poi ci sono all'interno di Hitech dei nomi che cercano riscatto come Futrell e Lawson quindi io vedo indicativamente questi invece i test hanno detto che sostanzialmente un altro pilota che potrebbe davvero andare bene è Peroni che nei test è andato abbastanza forte quindi forte anche dell'esperienza della passata stagione ricordiamo tra l'altro Peroni autore di un backflip a Monza davvero scettacolare per fortuna senza gravi conseguenze per lui quindi potrebbero essere questi Verschur che ha vinto la gara di Macao non so l'ho visto un po' come un acuto singolo non credo che possa poi di fatto andare a insomma proporsi per una stagione intera e la lotta per il campionato Marcello Auger cosa ne pensi? Dennis Auger che comunque ha vinto l'anno scorso la Formula 4 ma sai che stavo per faregli la stessa domanda perché io l'ho visto molto bene lo scorso anno Dennis Auger dominante proprio Dennis Auger bisogna bisogna vedere perché il problema poi del passaggio delle categorie come Formula 2 e Formula 3 è l'abituarsi anche ai pochi tempo che c'è di pista perché di fatto nelle varie categorie proprio debiti che prima da Formula 2 e Formula 3 ci sono varie sessioni quest'anno in più che c'è stata praticamente zero possibilità di pista poi sarà tutto impacchettato bisogna capire anche quanto questi piloti come appunto anche Auger riescono a abituarsi con una sola sessione di prove libere a essere subito veloci in più c'è anche la questione del dover abituarsi a un tipo di gomma che ha un degrado abbastanza elevato quindi per chi arriva dalle categorie minori è difficile l'anno scorso la Formula 3 era nuova per tutte per cui di fatto erano quasi tutti i rookie e quindi insomma tutti erano allo stesso livello quest'anno c'è qualcuno che ha più esperienza e potrebbe riuscire a far bene in più il team Hitek l'anno scorso non lo so non l'ho visto benissimo se devo essere sincero anche con Pulcini che doveva insomma essere la sua annata alti e bassi senza mai riuscire a fare davvero un grandissimo risultato e anche Vips insomma l'anno scorso i nomi è stati due principalmente Prema e Art come quest'anno si spera come negli ultimi anni come negli ultimi anni certo sulla carta si contorneranno effettivamente anche quest'anno sulla carta probabilmente sì io a occhio indicherai insomma ancora questi questi due Art forse rispetto all'anno scorso un po' più debole come partenza come line up più competitiva sicuramente Prema guardando solo il curriculum poi bisogna vedere in pista scusami invece HWA cosa ne dici comunque gli investimenti ci sono era un po' lo sparacchio dell'anno scorso tutti i team con HWA erano anche un po' preoccupati perché di fatto c'è dietro Mercedes è la branca di Mercedes che si occupa del mondo senza l'impegno di team fallimentare concentrando tutte le risorse su monoposto piloti da vedere perché Enzo Fittipati comunque Enzo Fittipati qualcosa l'ha fatto vedere Luke secondo me è anzianetto per la categoria però l'esperienza comunque ce l'ha però l'esperienza e Jack Doan comunque non è un qualcosina l'ha fatto vedere da giovane è ancora giovane nel categoria è giovane non è riuscito di fatto Dua secondo me a confrontarsi davvero con i piloti più forti in circolazione della sua età perché comunque ha sempre fatto dei campionati magari non di primissimo livello quest'anno è un po' la prova del nove vedere quanto potrà fare in un campionato come la Formula 3 non lo so l'anno scorso HWA ha fatto bene in qualifica però poi ha dimostrato che in gara che poi è la parte più difficile della gestione di questa Formula 3 non era al passo di Prema e al Grand Prix vedremo se quest'anno hanno capito che direzione prendere hanno confermato i Ux quindi vuol dire che le indicazioni magari giuste da parte del pilota inglese seppur avanti con l'età per la categoria ovviamente ci sono state è comunque un pilota del 94 quindi vabbè rispetto a me almeno sicuramente più giovane però può aiutare la squadra chi ha tanta esperienza è sicuramente un aiuto in più in termini di setup e ripeto non si prova tantissimo in pista e quindi avere qualcuno che può essere di riferimento può essere anche presente per più stagioni consecutive da modo al team di capire se le indicazioni sono quelle giuste e di capire se è un pilota che si può seguire quindi se è stato confermato io credo che a questo punto abbiano pensato che sia insomma l'uomo giusto per loro molto bene sarà un campionato di Formula 3 assolutamente da non perdere così come quello di Formula 2 e ovviamente quello di Formula 1 che non vediamo l'ora che abbia finalmente inizio ringrazio Marcello Puglisi naturalmente Marcello buon lavoro per le tue telecronache nel corso del weekend saremo curiosi di sentire i tuoi commenti quelli di Lucio Rizzica e naturalmente ci risentiamo e ci rivediamo presto qui sulla VGP.it mi decongelerò dalla cella frigorifera in tempo per il weekend grazie ancora Marco per l'appuntamento e ciao Luca ciao a tutti entrambi Luca e ciao a tutti anche gli amici collegati è stato sempre e sarà sempre un piacere ciao ragazzi grazie ciao Marcello Puglisi a presto e allora e allora io siamo in chiusura totale quindi davvero do gli appuntamenti velocissimi per il weekend ore 14 con le qualifiche di Formula 1 sabato in diretta ore 15 con la gara del naturalmente la gara che scatterà alle 15.10 lo ricordiamo perché altrimenti corriamo il rischio di sbagliarci con gli orari ma la nostra il nostro commento live scatterà alle ore 15 di domenica 5 luglio per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria finalmente si parte grazie a Luca Pellegrini per essere stato con noi grazie Marco e buona serata a tutti ci vediamo alla prossima e un saluto anche a Luca Colombo ciao Luca ciao Marco ciao Luca ciao a tutti i nostri ascoltatori naturalmente torneremo in diretta domani sera alle ore 19 con Motorbike Circus per cui continuate a seguire lgp.it per avere tutte le news in tempo reale dal mondo del motorsport un saluto da Marco Previtere al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.